L'intelligenza artificiale è una grandissima opportunità per la pubblica amministrazione e direi per il mondo intero, come tutte le innovazioni. La storia del rapporto tra pubblica amministrazione e innovazione non è stata sempre facile, ma poi alla fine ha portato sempre un vantaggio proprio in termini di valore pubblico. Perché? Perché noi abbiamo in questo momento la possibilità di semplificare i processi, quindi dare ai cittadini e alle imprese dei servizi più efficienti e più efficaci. La principale caratteristica che deve avere un dirigente è quella di poter esercitare pienamente la leadership e come diceva ieri il nostro Presidente, avere il coraggio anche di sbagliare. Abbiamo, grazie al TNRR, la possibilità di formare in termini di competenze, hard e soft skills, tutto il personale pubblico che in questo momento ha bisogno di reskill e di upskill. Abbiamo l'opportunità come Formes di avere un ruolo centrale in questo processo di innovazione.